Una volta in avanti, una volta in avanti, una volta in avanti, la controlla e la porti in foglia e la ritaglia. Cosa fa la terra e poi lo continuo. Vai! A mano che mi sembra che è facile, non è tanto la velocità o il risultato più distante. Altre devono essere corti e se vogliono lavorare, vogliono partire. Grazie bene, dietro, grazie. E la porta all'interno, di destra e di sinistra, lo restituisce. Questo è il principio. Vai sull'esterno? Vai! Mettete la vicina al castello. Da l'altra parte? Partire, già! E' chiaro che poi, lavorando sulle distanze, sulle misure, si può intervenire sulle difficoltà. Fate una destra, una sinistra, una alle spalle e la porto all'interno del quadrato. Portate all'interno del quadrato con lo stesso piede di esterno e calciate l'interno. Allora, se guardate, date continuità. Vediamo se ce l'ha, se ce l'ha. Provate ad avvicinarvi un attimo, stop, vi avvicinate un attimo, controllate la palla, la avvicinate con i piedi, gliela date con una parabola lenta, pur comprovata e la portate all'esterno. Vai! Un tocco e restituiscono il tono del castello. Via! Allora, nel castello. Se vi rendete conto che hanno qualche difficoltà, cambiamo le misure, quindi la grandezza del castello o la tipologia del passaggio. La parola del castello è un attimo. Detto il castello. Portate la parola del castello. ecco questo è un esempio nel frattempo di utilizzare le figure geometriche potete farlo con un triangolo un quadrato ed è il tempo del passaggio e la qualità del passaggio sulla corsa anche qui il numero di tocchi o la tipologia di controllo cambia in funzione delle attività delle abilità e soprattutto le misure del quadrato diventano sempre più piccole per aumentare la velocità questa è un'esercitazione che fanno abitualmente le squadre nazionali giovanili nel riscaldamento con il lavoro sul quadrato cambiatevi di voglia 4 1 per piastello e stai perdo all'altezza dei due cinesini gialli circa quindi un po' avanti o un po' indietro un secondo della qualità del passaggio che vi fate si schierano 4 giocatori corrispondenti e 4 giocatori di altri tutti con un pallone solo solo 1 ragazzi basta un pallone 1 allora totalizzate il punto si può farlo diventare un gioco a tempo ogni volta che la palla è la sua terra ma l'altra parte non c'è rum dimmi può essere 1, 2, 3 potete passare dall'orizzonte al metro e voi dovete cercare di percentaggio per comodità dobbiamo consiglio allora quando la palla dai a palla dentro il tuo po' quando la palla è in una posizione gli conviene di avanzare e chiudere le linee di passaggio ok quindi se la palla esempio è davanti a lui dagliera ecco che è meglio che le chiedi chiudi le linee di passaggio e avanzare vale anche se la palla passa in questa altra zona all'interno dei castelli un pallone conteremo i punti che vengono la vita tutte le brevi alle squadre partecipano a un gioco voi pensate che potete lavorare anche con 15 ragazzi 5, 5, 5 e diventa un gioco avete dei dubbi? pronti? via un punto vai vai veloce da te del tempo di capire i meccanismi che vedrete muovila 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 ragazzi capiscono ma anche l'importanza di muovila le palla il passaggio muovila per esempio la domanda restituisce per fare il passaggio distrattere per fare il passaggio vengono veloce bravi difensori guarda vai troppo lenti troppo lenti non passano mai stampare ecco che passaggio via subito bravo ecco che ci siamo ecco che ci siamo vai tu che si sa perciò vai 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 due si vede la sua guardate uno si vede la balla in mano la prepara forza 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 all'interno non vale doce doce vai ora punto si vede vai eccolo si accettate via no cambio andate in mezzo voi qua e voi fuori allora ora giochiamo in tempo dell'inserimento ok 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 adesso non mettiamo limiti al numero dei giocatori mi servono soltanto due qua due cittocattisti della nostra squadra o chi volete dai con un pallone con un pallone poi mettete metà al circa a quel cilettino un pochino prima due quattro che portiere vai un pochieria allora che non è che fare uno con un pochieria con un pochieria subito Allora lungo e adesso si passano la palla, quante volte muoiono? Chiaramente quando la palla è a lui che può capire l'inserimento, se non mi ascolti non puoi capire, difficile capire, quando lui ha la palla voi entrate per ricevere la palla. Chi la riceve deve riceverla quando ancora è prima della linea e la riceve dopo. Chi dei due non la riceve torna niente perché si riprepara. Lo facciamo vedere piano piano. Allora dagli palla, dagli palla, sei partito e sei partito. Ok, tu riesci, torni e tu vai a farlo con il tuo portiere. Vai a farlo con il tuo portiere. Va bene? Ok. Tu sei confronto o vai pieno? Partiamo da iniezione. Dai, via. Ok. Ok. Devi superare la linea di entrare, eh? Se l'avessi andata a te, tu non c'è arrivare lì. Dai, giusto. Vai. Parti, 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 parti. Non te lo lascio. Tu parla la linea a te, no? Ehi, dobbiamo fare tutto il modo veloci. Può sapere che ti darà, via. Vai. Parti. 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 Eccolo là. Tieni fuori dalla camera. Ehi, scrivi il tuo portiere, via. Vai. Tirate una canzone. Sì. Vai. Vai. Ressi. Poi. Poi. Ehi, non te la data, devem te le fare. Subito. Via. Vai. Parti. 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 Eccolo là. che lì fuori, che lì fuori non c'è la data che lì fuori sei ecologato ecologico ecologico ecografia ecologico 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 deve intercettare la palla. Chiaramente lui non si è ancora attrezzato con gli occhi dietro, quindi non vede dove va lui. Potete marcarci e chiudere il triangolo a lui. Poi entrate, chi riceve palla va a concludere, chi non la riceve esce fuori. Attacca. Eccolo qua. Vieni fuori subito. Mi rendete la palla. Bravissimi. Già pronto. Già pronto. Attaccano. Eccolo qua. Eccolo. Lascialo. Via. Fuori. Concludi. Molto bravi eh. Dai. Ecco. Vieni fuori bene. Ok. Inseriamo anche due difensori che giochino in modo attivo. Un difensore, grazie, parte dalla linea di fondo. Un altro difensore parte dalla linea di fondo. Giocano solo i corrispondenti. Per cui. Ehi. Ehi. Guardami. Se palla entra a destra viene luce. Se palla entra a sinistra viene luce. E giocate uno contro uno. Ci siamo? Stesso principio di prima. prima. Pronti? Vai. Eccolo qua. Uno contro uno. Via. Dicezione. Vai. Concludi. Bravissimo. Altra palla. Via. Attacca. Eccolo qua. Bravo difensore. Vai. Balla. attento. Attento. Eccolo qua. Adesso entrano tutte le due e facciano due contro due. Pronti? Vai. Vai. Balla difensore. Via. 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 Via